Buonissime da mangiare, un po' meno da cucinare. Vediamo insieme come poter eliminare quel cattivo odore emanato dalla loro cottura con un rimedio semplicissimo. Segla! Ciao lettori e lettrici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video. L'odore forte dei broccoli non deve però condizionarci e vietarci di cucinarli. Esistono infatti diversi metodi per poter eliminare i cattivi odori post cottura. A noi oggi di Mamma Style vogliamo farvi conoscere un metodo che eliminerà i cattivi odori già durante la cottura. Vediamo insieme in che modo. Ci occorreranno solo due foglie di alloro. Quando andiamo a cuocere i broccoli per poter neutralizzare il loro cattivo odore, basterà aggiungere all'acqua di cottura due foglie di alloro. Le loro proprietà riusciranno a contrastare il forte odore dei broccoli e ad eliminarlo. Come sempre, se ti va, lascia un like e iscriviti al nostro canale. einfach a seconda parte di Hackney. Grazie a tutti.